Amici di Marco Ferrante TV, sono le 12 quasi meno 10, purtroppo l'Italia dopo 9 rigori non ce la fa battere una Germana spietata, ma siamo rimasti molto addolorati per gli errori dal dischetto di Graziano Pellè, non buttate, per favore, non buttate tappi di Graziano Pellè e di Leonardo Bonucci. Siccome se non bastasse, anche dopo i mondiali, i pugliesi devono invocare i Santi dopo altre occasioni sbagliate, è peccato perché anche la Germania aveva sbagliato di questi calci di rigori e l'Italia poteva certamente approfittare di questo momento favorevole, visto che i tedeschi non si aspettavano di arrivare al 120esimo. Ricordiamo il parziale dei regolamentari, 65esimo, Ozil per la Germania, al 78esimo, Leonardo Bonucci sul calcio di rigore, soprattutto i supplementari. E purtroppo si riusciva anche l'errore di casa, è entrato al 120esimo. Ragazzi, purtroppo la professionalità mi spinge a fare questo video, io vi saluto, vi auguro ancora buone vacanze, speriamo di tornare a sorridere e dobbiamo farlo. Ciao a Marco Ferrante, comunque grazie a Zurvi per avermi avuto una Germania giustamente più forte tecnicamente. E grazie lo stesso perché comunque avete lottato. Ciao a tutti e buona serata.